La nave di gasificatrice Golar Tundra di Snam è arrivata nel porto di Piombino dopo 26 giorni di navigazione da Singapore e ha fatto il suo ingresso intorno alle 23 di ieri domenica 19 marzo, venendo posizionata alla banchina di attracco della Darsena Nord. Lo annuncia una nota dell'agenzia ANSA. Quattro rimorchiatori l'hanno trainata all'ormeggio con una manovra lenta e precisa dopo una sosta di attesa di circa quattro ore alla fonda nel golfo di Follonica. È entrata di prua, si legge sull'ANSA, poi a centro rada è stata fatta ruotare per portarla al punto di arrivo definitivo. La nave è lunga quasi 300 metri e alta 55, quindi, per gestirne l'ingombro, è servita un'operazione notturna, cioè si è agito quando il traffico dei traghetti si ferma fino all'alba dopo l'ultima corsa. L'arrivo della nave rigassificatrice a Piombino, e così l'altra simile prevista su Ravenna, affranchirà l'Italia da una significativa quota di dipendenza di importazione di metano dai gasdotti transnazionali di terra, dalla Russia e anche dall'Azerbaijan. La Golar Tundra non entra subito in funzione. Bisogna aspettare maggio, dicono le previsioni tecniche, quando, al cantiere di Snam, visibile in lontananza dalla parte opposta del porto commerciale, saranno terminati gli allacci con il nuovo metanodotto di terra. La presenza della Golar Tundra ha già un forte valore simbolico. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto già domenica sera sul porto, sottolineando l'importanza di questa tappa nell'ambito delle politiche energetiche nazionali e rilanciando il tema delle compensazioni per Piombino, secondo polo siderurgico italiano, città che ha manifestato dissenso per essere stata scelta.